Giovedì 16 novembre, benvenuti e buonasera a tutti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Le forze dell'ordine sono al lavoro da martedì pomeriggio, poco dopo le 15, per rintracciare i due detenuti albanesi, Emilian Bici, 43 anni, ed Ermelinda Spaio, 38enne, evasi durante il lavoro esterno in un'azienda agricola di Pesaro. Entrambi erano stati condannati per tentato omicidio e scontavano la loro pena in carcere a Villa Fastigi. La fuga dei due detenuti ha attivato la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale e Nucleo Investigativo Regionale che in collaborazione con le forze dell'ordine hanno setacciato le stazioni dei treni e degli autobus cercando anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Controllate anche le loro celle alla ricerca di qualche indizio. Le ricerche si sono estese sull'intero territorio nazionale e proprio per coordinare le indagini questa mattina si è svolto un tavolo tecnico in prefettura a Pesaro. Probabilmente i due detenuti avevano organizzato il piano di fuga da molto tempo e non si esclude che potessero avere dei complici con i quali si sono allontanati dal territorio pesarese.